No, è sparito Comedy Central, ora cos'è questo blu azzurro? Oh, aspetta un attimo, adesso toghi 4 secondi, 3 secondi e ti metto la tv generica Ah, sì, sì, scusa, tv generica fantastica, come ho fatto a non ricordarmi Ma anche oggi a lei un'altra mezz'oretta Che come la tv normale, vedi, stessa formula Metà prezzo, lo so E cominciamo con la pubblicità Siamo? Senti, ti metto un po' di telepillola Ah, divertente Cioè, hai sbagliato, però va bene così, perché la strada la conosco bene Eh, lo videmi tu perché... Ebbene, tu come sei Com'è? Dove va? Ah, sì, ok, ci sono, ci sono, perfetto, vabbè, facilissimo Allora, fra poco, esatto, devi girare a destra Ecco qua, metti la feccia, ecco qua, e devi andare a destra Ma a destra, vedi, ma qua Sì Qua Però non... Mi sembra un po' assente l'amico Sì, un po' scollegato Ah, no, scusa, mi sono distratto Vabbè, fai il metro qua, adesso... Vagamente distratto Ci sta un'altra uscita Ah, vedi, ecco, ritorna indietro, perfetto, ci sta in versione di marcia Per fortuna c'era un'altra uscita La rotonda è qua, vedi, qua, qua, vedi, qua, 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 gira qua No, lui proprio non c'è, totalmente Non ha seguito, neanche stavo No, la rotonda, devi girare Prima, ma non Ma ho dritto dove si va? Eh, ho dritto dove si va Ma mi devo orientare un attimo, aspetta un attimo Adesso ce la faranno andare dove devono, no? Ecco qua, l'area di servizio qua Ti accosti un attimo e guido io Ok Qua, vedi, qua, qua, aspetta, qua, vedi, l'area di servizio qua, vedi, qua, l'area, aspetta Secondo me c'ha proprio dei problemi familiari Non devo fare benzina Non devo fare benzina Sai dove arriva sta strada? Dove arriva? A Parigi Ah, ecco, a Parigi A me a Parigi E diamo a Parigi, vediamo Iam a Parigi, a quello non interessa proprio nulla C'è l'ufficio Se la prendono con calma, molto alla napoletana Ascolta, ti vai a sentire un po' di musica? Sì, dai Sì, dai